Dunque, si sta continuando a cercare un accordo per quanto riguarda i Corona Bonds, tuttavia rimane un grave blocco, un blocco causato prima dalla Germania e dall'Olanda, in cui adesso il maggiore oppositore rimane soltanto l'Olanda. Questo no da parte dell'Olanda blocca tutta l'operazione, anche se tuttavia la maggioranza dei paesi sarebbe favorevoli ai Corona Bonds, perché l'Europa non potrebbe ascoltare il volere della maggioranza dei paesi e perché ci deve essere una decisione unanime? Perché dipendono le materie europee, sono state definite dai trattati internazionali europei. Alcuni di questi trattati attribuiscono delle materie alla Commissione europea, che quindi ha la sua responsabilità e può decidere. Altre materie sono decise invece dal Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo, cioè dai paesi membri. Qualcune di queste materie sono decise a maggioranza e altre richiedono unanimità. Le materie di questa delicatezza, come può essere un cambiamento, come quello di introdurre un debito europeo, sono di quelle che vanno presa l'unanimità. Quindi è chiaro che bisogna tener conto di tutte le opinioni. La mia opinione è che l'Olanda non esista, nel senso che parla a nome della Germania e fissa una posizione rigida perché poi la Germania possa negoziare. L'appunto di questa situazione è che nel merito tecnico è che finché l'Italia non dice che è disposta ad accettare il cosiddetto MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità di cui abbiamo già parlato, che è un prestito condizionato, anche se le condizioni possono essere attenuate in questo caso, secondo me la Germania e per essa l'Olanda non accetta di introdurre delle obbligazioni europee, dei titoli europei. Se l'Italia accetta una, la Germania accetta l'altra. In ogni caso, se c'è un compromesso, questo compromesso emergerà solo nel Consiglio europeo. Ma al mio punto di vista, non so se te l'ho detto ieri, ma è un articolo che ho scritto insieme con Massimo Andorffi e che spero usca sul 24 ore domani o dopodomani, è che l'Europa deve precedere a questa discussione tecnica una decisione politica. Esiste ancora l'Unione europea? È ancora valido il disegno cominciato nel 50 di voler costruire dagli Stati europei un'unità più vasta? Se sì, se la risposta è sì, allora la soluzione si trova. Se la risposta è no, perché ormai prevale una specie di nazionalismo, allora l'Europa è perduta. Nel senso che le istituzioni europee conteranno sempre meno e i paesi europei singoli a loro volta conteranno sempre meno. Perché in un mondo in cui c'è la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, ciascuno deciso a affermare il proprio peso nel mondo, se l'Europa non riesce a esprimere un tanto di unità, è spazzata via. Cioè i paesi diventeranno vassalli dei grandi paesi. Quindi il problema non è i corona bonzi, è una domanda molto semplice. Il progetto iniziato nel 1950 con la lettera di Schumann ai tedeschi che diceva mettiamo insieme il carbone e l'acciaio su cui ci siamo fatti guerra tante volte, è ancora valido o no? Nel 2012 per la moneta unica Draghi disse signori noi faremo tutto quello che serve per salvarla e in qualche modo l'ha salvata. Bisogna che l'Europa dica signori noi faremo tutto quello che serve per salvare l'Unione Europea e allora si salva. E se invece questo non viene detto, l'Unione Europea torna a essere un campo di battaglia. Saranno i Balcani del mondo. Per noi che siamo di un'altra generazione dire che qualcosa si balcanizza vuol dire che si divide in piccoli gruppi in guerra fra di loro. L'Europa rischia di balcanizzarsi. Questo mi pare il punto politico di questa questione. In tutta questa discussione tecnica, bonds on bonds, bisogna andare alla sostanza politica. È questa. L'Europa vuole esistere o i singoli paesi pensano di sopravvivere ciascuna per il suo conto. Se cadono in questa ilusione, finiscono ai Balcani. Cioè finisce il sogno dell'Europa, ma anche nascono i problemi per tutti noi. Ora come ora è più facile che l'Europa si balcanizzi o che rimanga unita? Non voglio fare previsioni. Voglio soltanto dire che questo è il problema. Se c'è una classe dirigente, risponde. E se non ce l'ha, finisce male. Non lo si poteva sapere nel 1945-46 se dalle macerie dell'Europa sarebbe uscito fuori quello che poi è stato i nostri paesi. Aveva una classe dirigente ed è uscito fuori qualche cosa. Se ce l'ha, si vedrà. Se non ce l'ha, ne pagheranno le conseguenze. O meglio, ne pagherete le conseguenze voi che siete più giovani. Certo. Vogliamo riprendere il nostro discorso americano? Sì, con piacere. Però stanotte, ricordando queste nostre conversazioni, mi sono ricordato che non ti avevo raccontato un aneddoto, un episodio degli anni di Cambridge, del 64. Ah, ok. E questo episodio, che voglio raccontarla, ha a che fare con una tradizione di famiglia della mia famiglia, di mio padre soprattutto, che era il gioco dello scopone, il gioco delle carte. Il tempo, quando non c'era la televisione, non c'erano i computer, le carte erano un passatempo molto frequente. E nella famiglia, dopo mangiato, si giocava scopa, scopone. Lo scopone scientifico è un gioco bellissimo. Un gioco di grande intelligenza, un bellissimo gioco in quattro. Io avevo imparato a giocare a cinque anni, a sei anni. E nella casa nostra, dopo pranzo, il pomeriggio, c'era la tradizione di fare uno o due partite di scopone, in quattro. Mio padre, mia madre, mia sorella ed io. Mio padre era un grande giocatore di scopone. Il problema del gioco dello scopone è che si litiga moltissimo. Ma la cosa strana è che non si litiga con gli avversari, si litiga con i compagni. Perché è un gioco che si fa a compagni e quindi se perdi te la prendi. E mio padre era molto, si arrabbiava moltissimo. Questa è la premessa di questa storia. Dunque nel 64 ci furono delle elezioni comunali a Roma nella primavera del 64. Era un momento di pausa universitaria. In Inghilterra, come sai, l'anno accademico è brevissimo, sono sei mesi. Sono tre trimestri di otto settimane. Otto settimane, ottobre, dicembre, gennaio, marzo, aprile, maggio. Poi ci sono gli esami. Allora, in una di queste pause cadde un viaggio, una possibilità di un viaggio a Roma. Siccome c'erano le elezioni, l'Italia faceva dei viaggi con lo scolto. Allora costava moltissimo l'aereo, viaggiare. Io non tornavo neanche per Natale, si tornava a casa. Però c'era questo viaggio e quindi partì ad andare a Roma. e mia madre mi disse c'era una domenica o prima delle lezioni o dopo e disse abbiamo invitato un gruppo di amici a una trattoria sui castelli romani. Io rimasti molto sorpreso perché i miei non avevano queste abitudini di andare fuori spesso né di fare inviti di questo genere. Comunque andammo su questa trattoria, una famosa vecchia trattoria che credo ci sia ancora, a Grotta Ferrata che si chiama Squarciarelli. E con mia sorpresa insieme ad altri amici che c'erano, sette, otto persone, arrivò un generale. Era forse il primo generale che io vedevo da vicino. E noi parlammo con una conversazione molto carina. Mio padre era un capotavola, questo generale all'altro. Ero sorpreso della grande cortesia con cui mio padre chiedeva al generale ma cosa pensa di questo, cosa pensa di quello. Ero un po' sorpreso, non capivo bene il significato politico. Comunque, finito di mangiare, preso il caffè, come si diceva spesso, giochiamo a carte. Mio padre disse, lei generale gioca a carte? E lui disse, io me la cavo. e questo naturalmente mi fece capire che non aveva più pallida idea di che cosa voleva dire. Lo scopone scientifico è un gioco per il quale appena tu vedi come uno prende in mano le carte e sai se sta a giocare o no. Non c'è poco da sbagliare. E anche se è intelligente o no, lo capisci quasi subito. Allora mio padre disse, io gioco con il generale, compagno con il generale, che era un segno, secondo lui, di considerazione. E disse, mio figlio, mi dia di un compagno molto scadente. E cominciamo a giocare. Io sentivo che bisognava che io perdessi, che il generale doveva un successo, ma risultò impossibile perché il generale perse. Faceva tutti gli errori possibili. La prima partita mio padre la prese molto bene, disse, parlando molto a distacco, sa se lei alla terza mano il generale avesse giocato un 6 invece di un 5, forse, ma era una considerazione, per così dire, storica senza nessuna. Nella seconda partita, come capita con i cannoni che si aggiustava il tiro, dice il generale, ma la mano scorsa, la mano scorsa, e lei perché ha giocato quel quattro? Il generale diceva, ma si vedeva che non si ricordava, perché a un certo punto alzando la voce disse, ma il generale, ma perché sta per giocare quella casa? Dice, ma lei è eccellenza, perché nel corso del pranzo si era creata una certa familiarità, si diceva onorevole, il generale, tornò a questa eccellenza che era un titolo che un tempo si riservava, mio padre era appena stato ministro, eccellenza, lei come fa a dire, già so che lei sta giocando un tre, poniamo, e come fa a saperlo? Il fatto è, non so se tu si conosce abbastanza lo scopone, il fatto è che lo scopone, scientifico, ha delle regole con cui si calano le carte, una tecnica, diciamo così, se uno la sa, la sa, e sapendo, contando le carte, ricordando lo spariglio, dopo quattro o cinque mani più o meno sai che cosa hanno in mano tutti e quattro, e in particolare sai cosa ha in mano il tuo compagno, e tre o quattro mani prima della fine, sai che c'ha, per esempio, due carte, una buona che è quella che deve giocare, e una sbagliata che è quella che non dovrebbe in nessun caso giocare, che è quella che una schiappa normalmente gioca, cioè c'è una specie di attrazione fatale delle carte sbagliate che allo scopone scientifico porta gli incapaci, quelli che non conoscono le regole, a giocare esattamente, quindi mio padre diceva lei ha un trevoto, e dice come fa a saperlo? Lo sapeva perché era la carta sbagliata, e quindi ci fu questa tremenda esplosione, allora io tra di me pensai ma qui finisce male perché la storia poi è che in quegli anni c'era appena cominciato il governo di centro-sinistra con i socialisti e la destra, le destre erano c'era un grande come disse Pietro Nenni un tintinnio di sciabole, si parlava di colpi di stato e c'era un pericoloso orrendo generale, capo dei carabinieri e capo dei servizi segreti che si chiamava De Lorenzo che fece poi una specie tentò di organizzare una specie di colpo di stato e per fortuna dentro l'esercito non tutti erano favorevili e questo generale che era stato portato a pranzo era un generale per così dire democratico che doveva per così dire costituire la difesa democratica rispetto al pericoloso generale De Lorenzo quando capì noi finiremo davanti al flotone dell'esecuzione ci saranno De Lorenzo e questo generale di cui non voglio fare il nome nemmeno 40 anni dopo uniti da questi insulti presi da mio padre che ci fucileranno a noi per primi e quindi così finì lo scopone era una è stata una cosa che ha legato molto mio padre al partito repubblicano popolare per tanti anni dopo la sua morte quando io andavo in Romagna in queste meravigliose case del popolo pieni di vecchi repubblicani di busti di mazzini venivano e mi dicevano sai io ho giocato a scopa con tuo padre io giocavo a scopone con tuo padre era un segno di questo legame profondissimo che si era creato con che adesso non c'è più perché naturalmente sfortunatamente il gioco delle carte e soprattutto lo scopone che aveva questa straordinaria questa straordinaria capacità di c'è un ultimo episodio che voglio raccontare nel per finire su questa storia dello scopone così non ne parlo più negli anni 70 quando c'erano ancora i vecchi regolamenti del Parlamento in cui ciascuno poteva parlare liberamente su tutti gli emendamenti Pannella e il suo partito radicale facevano l'ostruzionismo su qualunque cosa e molto spesso si passava la notte in Parlamento votando si votava ogni 40 minuti suonava la campanella naturalmente non è che si stava in aula a sentire Pannella o i suoi che ripetevano le solite cose quando suonava la campanella si andava dentro e si votava allora si votava era molto lento il processo pensa che per votare non c'era il voto elettronico come adesso si doveva votare chi votava sì metteva pallina bianca nell'urla bianca e chi votava no votava pallina nera nell'urla bianca e pallina bianca nell'urla nera poi i funzionari contavano poi i conti spesso non tornavano eccetera quindi era un processo lunghissimo allora Mammi che era un nostro parlamentare una brava persona scomparso da qualche anno che era convinto di saper giocare a Scopone ma non saper giocare a Scopone mi disse guarda io ho sfidato due vecchi comunisti durante questa notte in cui eravamo lì di guardia e allora ci mettevamo in un corridoio del Parlamento e tra una votazione e l'altra giocavamo a Scopone e questi due comunisti erano bravi e Mammi non lo era e giocavamo e naturalmente cosa succedeva? quando suonava la campanella ci alzavamo quando tornavamo loro due ed io ci ricordavamo esattamente dove avevamo lasciato le carte il povero Mammi si era dimenticato tutto e quindi noi perdemmo cinque partite la cosa che mi fece piacere l'indomani mattina incontrai uno di questi vecchi deputati e mi disse guarda abbiamo apprezzato molto io e il mio compagno non tanto che tu sappia giocare a carte quanto il fatto che tu non abbia rotto la testa al tuo compagno Mammi che ha fatto delle fesserie terribili questo riconoscimento da parte di un vecchio comunista è uno di quelli che mi ha più fatto piacere nel corso del tempo bello a domani a domani grazie grazie Grazie.